Ciao a tutti gamers, ben ritornati in un altro episodio di... Fatemi indovinare, inizia con la R e l'altra parola inizia con la E RE, 1, Biohazard, scommetto, Resident Evil Ho vinto, grazie, va bene Oggi continuiamo la nostra storia dove nello scorso episodio Scusate per quello che ho detto prima, veramente sono un stupido Abbiamo trovato il cilindro e lo stantuffo che abbiamo unito Ora dobbiamo solamente metterlo Ok, siamo qui Dobbiamo solamente ricordarci il numero Possibilmente esaminiamo No, esamina, barca miseria Allora, 4, 2, 3, 1 Va bene, molto molto semplice Metti lo stantuffo, mi sa che lo devo mettere Mi sa che lo devo mettere per bene, mi sa Ok, l'ho messo, usiamo Vediamo, vediamo 4, 2, 3, 1 Vai 4 2 2, 3, 1 Dimmi che è andato bene Ottimo Aha, sta salendo l'ascensore L'ascensore è in un film horror e ho più che altro in un gioco horror In questo caso è la cosa più sbagliata di sempre Però noi che siamo Chris non abbiamo paura Andiamo subito giù Premilo, premilo Vediamo cosa succede Quella bellissima schermata quando scegli dal Dall'ascensore è fantastica Molto Retro Qui dove si scende Cioè Ok Cioè praticamente quello distrugge Ok Non so che cosa vuol dire Cosa voglio dire questa cosa Se c'è qualche mostro O qualche Come posso dire qualche Qualche cosa Non lo so Porca miseria Te pareva Mannaggia Tu so Sbiliquita Mannaggia Oh ma come sta la vita Proprio fastidio Proprio fastidioso Fattelo dire Dove sono andato Io sto muovendo a caso Sono entrato da una porta all'altra Vabbè Quella non si può uccidere L'hanno pure detto gli altri Quindi è inutile sparare colpi Sprecare colpi Dobbiamo dire la verità Questo si può spostare E poi portarla All'inizio Mi sa che la porta all'inizio La dobbiamo distruggere poi Ho capito Ho capito tutto Ho capito Buttiamolo qua Ok Ora dobbiamo usare questo Vai primi Che cosa uscirà mai? Mamma mia È la miseria Cosa sta Un elefante Mi dissocio Io sono con gli animali Lanciafiamme fuori uso Credo di aver capito anche Cosa possa servire Con questa lanciafiamme fuori uso Andiamo qua Tu sei sempre E a portarci coraggio Cosa è? Vai primi Ottimo Ottimo questa cosa Ok Scappa 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 Ok Fortuna Fortuna Ok Dove siamo arrivati? Cos'è questo posto? Non mi dire che è dove Tenevano la figlia E tutti gli altri Non c'è niente di particolare Qui però Attenzione Siamo nel Uh serpenti maledetti Siamo nell'acqua Stiamo a fare un bel bagno Qui però Non siamo bagnati Non siamo bagnati Sì Qua è dove tenevano le ragazze Però C'è una cosa qui Ecco Stanno facendo qua Stanno distruggendo Porta gioia Porta gioia Apri Hai preso un nello di pietra Foto di famiglia a punti C'è qualcosa scritto sul retro Vabbè Io sono in stato di Vabbè Vabbè Casomai Leggete voi ragazzi E guardate dove siamo arrivati Oggetto in lega Vi ha inciso un emblema Ok Non c'è niente di insolito Va bene Però ottagonale Se provassimo Un emblema inciso Sull'oggetto ottagonale Oh cavolo Mi sa che ho capito Ed eccoci qui Prendiamo questo Oggetto di pietra E metallo Questo qua non ci servirà più D'altronde ora la porta è anche chiusa E vi faccio vedere Perché Ho dovuto prendere questi due oggetti Siamo ritornati in casa Vedete qui ci sono delle scale Posteriori a tutto E qui C'è una porta Che non vi ho fatto vedere nel primo episodio Perché ho tagliato Sì a parte il ciclo Che Incombe questa ragazza Sì Mettiamo Gli emblemi Sono un pizzo Ora che abbiamo messo Tutte e due Gli emblemi Possiamo Passare Passare Apri la porta E vedi cosa c'è dopo Ho paura Una vecchia macchina da scrivere Cosa mi fa Ok Fortunatamente qui c'è Tutto Ormai non siamo più in casa Questo mi fa sperare molto molto male La casa ormai Scordatevela ragazzi Questo non è più una casa Questo è diventato L'inferno Che solamente Chris Io Io però Passivamente E voi Possiamo Sconfiggere Quindi cerchiamo Diamo tutto il nostro massimo E Fuggiamo da questa maledetta casa Ma Che Ma che vuol dire Oh Stanno queste cose qua Che si spostano E voglio che si spostano Certo Dovevo pensarci prima Gli dovresti dare una mano zio Quando la maledizione Deve vedere La spezzata Comparirà il sentiero Ok ho capito Zio aiutami Bra Come ha fatto Ma cosa sei X-Men Butta 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 Mamma mia Come l'ho fregata Gli ha Fatto male Lei ha fatto male Aia Ciclo Ma c'è una luce là sopra Oh Non ho capito Sarebbe E la miseria Con quanta scena Molto fica Saluti alla madre Che fai Beh è stata molto sincera Diciamo che è un tuffo Intanto sblocco qui i trofei Un tuffo fantastico Ciao Ok Va bene Diciamo che è stato un tuffo di prima classe Potevi fare un triplo salto calpiato con Gambe incrociate Però vabbè Hai fatto del tuo meglio C'è una grande porta di ferro Che Ma che sta dicendo Sto Che mi stai dicendo Il simbolo Tale e quale Il simbolo Delle emblema Che dobbiamo portare Ritorniamo indietro Bello Ok Eccoci qui Abbiamo preso Abbiamo preso tutte e due Le medaglie Vediamo Qua mettiamo la prima Ho messo occhio a caso Sinceramente mi è andato bene Per la prima volta Non ci credo Non gioco Mettiamo la seconda Immaginavo E Ora che succede Che so Esplode il mondo Attenzione Filmato Anni 2000 Gamecube ragazzi Livelli alti Ma che stai dicendo Ma che mi stai dicendo Scusami No E scusami Quella porta là Questa porta qua Che è bloccata Questa porta qui di Di ferro Ma che vuol dire Questa porta Non ho capito Vabbè comunque Andiamo giù Da quello che Si vede qui Addirittura Addirittura Dove stiamo andando Ma dove stiamo Ma questo gioco È fantastico ragazzi È fantastico Dove siamo Il cartello dice Si apre solo in caso di emergenza Perché non è emergenza Questa qua Io devo fuggire E questo dice Mo' in caso di emergenza Che miseria Va bene gamers In questo episodio Siamo arrivati Da Da una casa A non so dove Sembra tipo Quando abbiamo Trovato gli squali Quel piccolo laboratorio Non lo so Cioè non sto capendo Io ho letto Anche in qualche fascicoletto Che c'è qui Nei fogli Nei vari fogli Che trovi Che si parla molto Di laboratorio Qualora dovessimo essere Arrivati in un laboratorio Noi saremmo Molto Molto vicini Alla fine E Soprattutto Arrivi alla fine Vuol dire che ci sarà Un boss finale E questo Implica La situazione Che sarà molto Difficile scappare Questa musica Mi sta dando fastidio Comunque gamers Vi ricordo Innanzitutto Qua c'è Chris Vi ricordo sempre Di lasciare un bel like Di iscrivervi Condividere Sui firmi Su tutti i social Che potete vedere O in alto a destra O in basso a sinistra Spero di ricordarmi Questa volta E Dal Chris seducente Con La pistu Cioè col pistolo Non mi dissocio Con Il pompa Ancora peggio Grossissimo Ancora peggio Sai Non si può dire E tutto Bella a tutti i gamers Ciao Ecco Doveva starci